Alla fine del mese di agosto, appena trascorso, Enel ha installato 10 unità vehicle to grid presso la sede della utility danese Frederiksberg Forsening, che ha anche acquistato 10 Nissan e NV200 van a zero emissioni. L'hab V2G contribuirà a stabilizzare la rete elettrica nazionale in Danimarca, offrendo servizi di capacità elettrica al gestore di rete Energinet.dk. Infatti, quando non sono in uso, gli NV200 possono essere collegati alle nuove unità Enel per ricevere o cedere energia alla rete elettrica nazionale, trasformandosi in efficaci soluzioni energetiche mobili. Il flusso di elettricità da e verso i veicoli viene controllato dalla piattaforma fornita dalla società Nouve e la capacità totale messa a disposizione dai caricatori a 10 kW Enel V2G ammonta a circa 100 kW.